E continuiamo a parlare di sport, parliamo di ciclismo. Ad Appignano del Tronto, centinaia di atleti per il campionato nazionale amatori WISP. Il servizio. Giornata intensa di gara ad Appignano del Tronto per il campionato nazionale amatori organizzato dalla Polisportiva Cittadina. Gare suddivise nelle fasce che hanno preso il via al mattino con le categorie M7, M8 e donne. In tutto 52 chilometri percorrendo i sette giri pianeggianti nella zona industriale per poi andare ad affrontare la salita finale nel borgo di Appignano del Tronto. Il ciclismo è un settore in crescita nell'ambito dell'Unione Italiana Sport per Tutti, conta 2.300 tesserati. Fascia a tricolore per Samo Cavagnarelli, Elite Master della Petritoli, insieme alle Marche a conquistare titoli assoluti Emilia Romagna e Toscana con Gianfranco Allegrini, Donato Castello e Domenico Passuello. Scudetti di categorie anche ad Annalisa Frulli, Stefania Bagnoli, Paolo Pè, Gianfranco Melandri, Gianluca Nicastro, Diego Giuntoli e Dimitri Colferrai. Squadra leader della giornata, la team Stefani di Lucca.